Due anni, 730 lunghissimi giorni. L'Italia ricorda la data più dura della sua storia recente, l'anniversario del primo lockdown. La pandemia da Covid-19 aveva raggiunto il nostro paese, la nostra regione. Il virus si diffondeva veloce di persona in persona. Scattavano le prime zone rosse, l'uso della mascherina, delle autocertificazioni per potersi muovere da città a città. L'economia colava a picco, così come le aziende, i negozi, le attività commerciali, c'era paura, si cantava dai balconi per avere un minimo di socialità. Oggi a distanza di due anni, con una campagna vaccinale che per fortuna ha dato la svolta, l'Italia si prepara a vivere una primavera e un'estate differente. La variante Delta, stando agli studi resi noti in questi giorni dal Change, sarebbe del tutto scomparsa, lasciando spazio a Omicron con le sue tre varianti sicuramente meno violente e infettive. L'andamento, secondo gli esperti, è quello verso l'endemia, che nel prossimo autunno, con un quarto richiamo booster, potrà essere gestita in tranquillità. Il professore Alessandro Sanduzzi Zamparelli, ai nostri microfoni, fa il punto della situazione sul fronte Covid in Italia e in Campania. Oggi conosciamo molto di più questo nemico invisibile, restano ancora tanti lati da chiarire, tanti lati oscuri. Devo dire che la situazione attuale è nettamente migliorata, evidentemente, rispetto ad allora. La variante Omicron sembra essere meno grave sul piano clinico, anche se più diffusiva sul piano della infezione, diciamo, della contagiosità. Un po' come, diciamo, almeno ci auguriamo che diventi così, è per l'influenza stagionale, che ogni anno, ogni inverno, infetta tante persone, pochi si ammalano, ancora meno si ammalano gravemente. Questo è probabilmente quello che succederà e tutto sommato è quello che noi auspichiamo.